Buonasera, non nasconderò l'emozione, l'emozione mi hanno vissuto bene, ci sono anche amici e quindi magari stasera la viviamo un po' insieme. Intanto ringrazio i consiglieri di maggioranza per le belle parole, non è un'attivazione che mi hanno fondamentale emozionato e anche le parole di mezzo che non mi erano previste. Ringrazio tantissimo i consiglieri di maggioranza che mi hanno votato inaspettatamente e quindi grazie mille. Ringrazio tantissimo, mi preme per sottolineare il senso di responsabilità con cui accetto questo ruolo che mi è stato affidato. Credo si debba ricordare, perché forse va fatto anche un po' di chiarezza, qual è il ruolo del Presidente del Consiglio che rappresenta il Consiglio Comunale, esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio Comunale e dei veriti dei singoli consiglieri. Farò in modo di essere all'altezza di questo compito che mi è stato affidato. Oggi viviamo un momento particolare, dopo due anni di commissariamento abbiamo finalmente la possibilità di ergarvi un ruolo istituzionale per il suo comunale. Vi ricordo a tutti, proprio come la Statuto è un organo con funzione di rappresentanza dell'intera comunità. È evidente che ciascuno di noi è stato votato da una parte dei cittadini, ma quando sediamo in quest'Aula rappresentiamo l'intera comunità. Spero che si possa lavorare con spirito di collaborazione per il bene comune e per la nostra città. A tutti i miei consiglieri, di maggioranza e di minoranza poco importa, la responsabilità di fronte ai nostri concittadini di fare scelte ragionate e non motivate da spirito di parte. Credo che il grande obiettivo di questo Consiglio Comunale sarà quello di far ripartire il dialogo tra le forze politiche, partendo dal lavoro dei gruppi consigliari. Magari appunto partiremo questo Consiglio Comunale e ricostruire la fiducia in torna di istituzione, per far comprendere che la politica è al servizio dei cittadini, che noi siamo al servizio della nostra città. Questa sera questo auditorium è pieno e questo mi emoziona, è la prima volta che parlo davanti a tante persone. Voglio ringraziare le persone presenti e chiedervi di starci accanto, di criticarci quando sbaglieremo e di sostenerci nelle scelte che faremo. Farò di tutto quello che tranne le mie competenze di Presidente del Consiglio per poter aprire maggiormente il Consiglio Comunale la partecipazione dei cittadini, partendo per esempio dalla formazione delle commissioni comunali tematiche. Per ultimo, ma non per importanza, sono contenta della forte presenza femminile e di consiglieri giovani, anagraficamente sì, ma anche dal punto di vista dell'esperienza amministrativa. Questa sera la maggioranza di noi è alla prima esperienza in Consiglio Comunale. Auguro a tutti noi di portare freschezza, entusiasmo ed un nuovo modo di interpretare l'idea politica, mentre ai consiglieri più anziani, non solo dal punto di vista elastico, ma di esperienza, di mettere a servizio di tutti noi la propria esperienza e competenza. Voglio finire con una frase che mi ha scritto tanti anni fa la mia professoressa di lettura e che mi porto normalmente nel mio portafoglio come buon aspiccio di lavoro. C'è una verità elementare la cui ignoranza uccide innumerevoli idee e spremi di piani. Nel momento in cui uno si impegna a fondo, anche la sua evidenza allora si muove. Infinite cose accadono per aiutarlo, cose che altrimenti mai sarebbero venute. Qualunque cosa tu possa fare o sognare di poter fare, incomincerà. La audacia è in sé. Genio, potere, magia. Incomincia adesso. Buon lavoro.